Tornano i talkers di Io Riparto, associazione di promozione sociale nata a Pescara che ha l'obiettivo di promuovere la cultura e le competenze digitali in tutti i settori della vita pubblica e privata. Non a caso, il nome scelto quest'anno per l'evento è Orizzonti 2022 per guardare con fiducia ad un futuro che è già dietro la porta e chiede con urgenza di colmare quel gap digitale che ancora frena istituzioni, imprese e cittadini. In un momento in cui, forse era, parliamo di due anni fa, eravamo nel momento più brutto forse della storia contemporanea e il mondo stava cambiando in maniera totale per quanto riguarda la digitalizzazione e per quello che potesse servire. Di conseguenza la Camera di Commercio ha investito somme importanti sulla digitalizzazione e il punto digitale, praticamente, con la sua rete ha dato il suo contributo importante. Noi dobbiamo continuare a comunicare l'importanza perché noi vediamo una cosa assurda che praticamente le aziende non trovano personale preparato nel digitale e ci ritroviamo una quantità di giovani disoccupati da far paura. L'iniziativa è importante perché è riguardato un tema fondamentale per la Camera di Commercio e per tutto il territorio quello della digitalizzazione, dell'innovazione tecnologica, della trasformazione digitale. Sono leve fondamentali per la competitività di un territorio e la Camera di Commercio lo vede come un punto strategico del proprio programma. Io riparto, è senz'altro un'iniziativa molto interessante che noi abbiamo sposato da alcuni anni e che sosteniamo perché crediamo che sia un laboratorio di idee dinamico, vivace che consente proprio lo sviluppo di una cultura digitale di cui c'è estremo bisogno in Italia e in Abruzzo in particolare. Sì, intanto la ringrazio alla Camera di Commercio perché è da due anni che appoggia questo progetto ritenendolo uno dei mezzi con cui trasmettere la conoscenza e la trasformazione digitale in atto. C'è bisogno di un cambio di passo perché fino a qualche mese fa eravamo chiusi in casa con le mascherine e adesso le mascherine ce le abbiamo ancora, ma ancora per poco speriamo. Siamo usciti di casa e c'è bisogno di capire e la nostra trasmissione cerca di aiutare in questo dove andare, cosa fare e come avvalerci della trasformazione digitale in atto.